La formazione del Castellaro Luca Pessi, Castelli Ricciardo, Daniel Pessi, Michi Piani, Alessandro Costelli, Pietro Pitti, Alessandro Macchiavo, direttore tecnico Valdini Svira. La formazione del Castellaro Luca Pessi, Castelli Ricciardo, Daniel Pessi, Castelli Ricciardo, direttore tecnico Valdini Svira. La py all'arbitrata è l'impercamento carminario di Galdi. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Buon appetito Buonanotte! Capitani per l'ordine! Loro bisogna di dirlo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.